dopo la titanium league e dopo una partita di star league giocata alle ore 16 la nostra domenica sbordone alla continua siamo in gold league e la sfida è tra i mastacchioni il quarto siti frusta e porta di vito sul rinvio errato di consolaenza e allora controlla e spara una frusta di vito ammazzando la porta di angioletti subito vantaggio quarto sito di vito indica la strada verso pirone che va col destino che chiedevano una riserva e sono affidati a cesare bianchetti attirano la pressione di buglione lì e vanno dal polish che va col destro con mastacchioni buglione forte lui destro in porta caccia buglione salvataggio straordinario il portiere del quarto non è finita marmo dentro ogni tanto pirone buono lo spunto bianchetti tocca il polish destro sinistro palla dietro bianchetti alto con le mani morbida pastore alto salta poi la palla torna dal flaco che non sbaglia e fa 2 a 0 per il quarto siti pastore palla morbida per pirone manoni di di angioletti basoterra sbuccia buonocore pirone sinistro respinta attivamente da di angioletti lo tempo dice 3 a 0 per il quarto siti di fernando mancini si mua stacchio prova le anza la ruba di vito risale il centrocampista del quarto punta l'area di rigore vada la oc palla dietro e la palla in rete di vito doppietta 4 a 0 prego di vito ripetta ragione 4 a 0 quarto siti che al mancio respinta corta per il primo gol di polish laoc 5 a 0 fordham maione leggermente fuori dei pali deve allungare la traiettoria in calcio d'angolo prova mancio destro traversa non entra di pastore proventa allenare il flaco palla dietro destro deviazione salvataggio di buione ancora laoz rouletta così poi suona e supergoal magia di laoz polish al primo alla prima presenza tra gli sbordoniani già regolato un paio di ed è tripletto altro gol per laoz questa volta fortunato a ricevere questo pallone da un rimpallo casuata pastore bianchetti dialogano nello stretto ma ancora per polish palla fuori pastore la pinta dentro col lo scavetto mamma mia palla fuori ma che azione ancora bianchetti che si libera di buione finta al sinistro finta il destro va da di vito mazzata contropiede laoz dentro bianchetti miracolo di de angioletti vito e bianchetti se ne vanno tocco dentro laoz tutto solo de angioletti salvato controlla limite nell'aria tocco dietro bianchetti vinta sinistra apertura di di vito mancio sistema su destra pirone bucata anche luca pirone ma in rete vinta sinistro salta secco fordham poi lo libera di angioletti marmo allontana di vito imbucata perfetta mancio miracolo e poi bianchetti 9 a 0 ma che imbucata fatto di vito finisce 9 a 0 quarto siti ma stacchioni impressionante la prestazione della squadra del mancio